Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie a tutti, innanzitutto, è un grande momento per noi festeggiare questa ricorrenza. Noi chiaramente siamo solo l'equipaggio attuale di una nave che ha avuto una navigazione così lunga e portiamo avanti questa navigazione con grande orgoglio e chiaramente speriamo che questa cosa vada avanti anche oltre il nostro tempo. Questa sera abbiamo il grande onore di presentarvi Maria Agresti. Grazie. 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 Grazie.